Questa mozione vuole impegnare la Giunta regionale a promuovere l'attivazione del dibattito pubblico così come è istituito dalla legge regionale 69 del 2007 e successive modificazioni. Finora non è stato fatto nessun dibattito pubblico perché è normato, non è una due giorni di incontri, il dibattito pubblico è proprio normato dalla legge 69. Quindi ecco questo perché è vincolante e debba essere preso in considerazione soprattutto e prima di tutto nell'attività politica la voce dei cittadini. Voto elettronico se possibile, grazie.